Grazie signor Presidente, esponenti del Governo, colleghi e colleghe. Oggi stiamo parlando del sito industriale più inquinato d'Europa. Ad ospitarlo è Crotone, in particolare la zona costiera alle porte della città. Parliamo dell'area ex Pertusola, da Pertusola S.p.A., che operava nel settore della metallurgica e che negli anni 20 ha trasferito la sua sede operativa a Crotone, dando vita a un grande impianto, una fabbrica per la produzione di zinco che, insieme a Portovesma in Sardegna, costituiva uno dei due poli italiani per la produzione di zinco. Era la più grande fabbrica della Calabria. La Pertusola S.p.A. e Montedison, infatti, hanno reso negli anni la zona del Crotonese uno dei più grandi poli industriali del sud, per circa 60 anni di attività, dal 32 al 99, quando la fabbrica poi fu definitivamente chiusa. Prima della sua liquidazione, però, nel 1997, la Pertusola era stata ceduta a deni risorse. E nel periodo di attività, ma soprattutto nel periodo di chiusura, di dismissione della fabbrica, sono state generate e smaltite, spesso abusivamente, enormi quantità di rifiuti tossici. Il sito è stato interessato anche da almeno due inchieste. La prima, nota come Black Moonth, insaperta nel 2008, aveva ad oggetto l'utilizzo di centinaia di tonnellate di scorie tossiche per costruire opere pubbliche e private, tra cui scuole, case popolari, banchine del porto, strade. Il processo, che portò anche al sequestro delle aree attenzionate, però culminò con l'assoluzione dalle accuse più gravi degli indagati, con formula piena oppure all'estinzione del processo per avvenuta prescrizione. La seconda inchiesta, iniziata nel 2011, invece, porterà al sequestro di un'area di circa 15.000 metri quadrati, coinvolgendo dirigenti Eni per lo smaltimento illecito delle cosiddette pietre del diavolo, che sono contaminate da minerali riconducibili al ciclo produttivo della Montedison e finiti abusivamente in una vasta area adibita di scarica nella zona di Farina Trappeto. Presidente, parliamo di amianto, parliamo di scorie radioattive tossiche. Nel 2001, quindi, viene identificata con il decreto, la zona di cui si parla, con il decreto legislativo 468, come SIN, sito di interesse nazionale da sottoporre ad attività di bonifica, proprio a causa di smaltimento abusivo e di discariche abusive. La bonifica viene affidata alla Sindial, una società del gruppo Eni, specializzata nel campo del risanamento ambientale. Quello che resta oggi, però, è un sito di proprietà oggi di Eni Rewind SPA, in condizione di totale abbandono, in cui rimangono ammassate enormi quantità di rifiuti, che oltre a rappresentare un grave pericolo per l'ambiente e per la salute dei cittadini dell'intera area urbana, impediscono anche qualunque sviluppo turistico ed economico del territorio. Stiamo parlando di una zona costiera. Al fine di accelerare, coordinare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale, era stato nominato un commissario straordinario, il cui mandato, però, è scaduto da tempo e che attualmente non è stato ancora ufficialmente riaffidato. Infatti, nonostante nel mese di settembre, a ridosso delle imminenti elezioni politiche, fosse stato indicato come nuovo commissario il prefetto, la signora prefetta di Crotone, con le problematiche che ne deriverebbero a causa della cronica carenza di personale che affligge da sempre l'ufficio territoriale del governo di Crotone, a tutt'oggi la nomina non è stata perfezionata. Però, sottosegretario, per comprendere meglio lo stato dell'arte e come si arriva all'interpellanza odierna, bisogna specificare alcune circostanze. Il 24 ottobre del 2019 si è tenuta al Ministero dell'Ambiente una conferenza di servizi alla quale avevano partecipato, tra gli altri, i rappresentanti di Sinti e all'SPA, la Regione Calabria e il Comune di Crotone per esaminare gli interventi di bonifica. Nel corso della conferenza era stato esaminato il progetto relativo al sito di bonifica, il cosiddetto POB 2, progetto di bonifica fase 2, che era stato trasmesso in precedenza da Sinti e all'SPA. Leggendo il verbale della conferenza di servizi del 2019 emerge che all'interno del provvedimento autorizzativo della Regione, il PAUR, relativo proprio al piano di bonifica, al progetto di bonifica, erano state inserite una serie di prescrizioni, in particolare che in ogni caso il destino dei rifiuti doveva essere posto fuori dal territorio regionale e che la richiesta di portare i rifiuti all'esterno del territorio regionale nasceva, sin dalle fasi iniziali della valutazione di questo progetto, dalla necessità, condivisa da tutte le amministrazioni locali, di non aggravare una situazione già pesantemente compromessa, mediante la realizzazione di nuove discariche. In quella sede il Sindaco di Crotone espresse parere favorevole, in particolare sulla questione appunto del trasbordo dei rifiuti fuori dal Comune e dalla provincia di Crotone e la conferenza dei servizi approvò all'unanimità. Tuttavia, dopo qualche tempo, Eni Rewind, non volendo più onorare questo impegno, ha chiesto alla Regione Calabria le riaperture del piano autorizzativo del progetto di bonifica, proponendo ricorso presso il Presidente, il ricorso statunale al Presidente della Repubblica ed esprimendo la volontà di tombare 400.000 tonnellate di rifiuti nello stesso sito industriale, attivandosi per ottenere il cambio di destinazione d'uso dell'area. Ed ecco che dopo appena tre anni presso il Ministero si è tenuta una nuova conferenza dei servizi il 9 febbraio scorso per la variante di questo progetto di bonifica e proprio per la realizzazione di una discarica di scopo per rifiuti con amianto derivante dalle operazioni di bonifica della discarica all'interno di quel sito di Crotone. Nel corso della conferenza dei servizi, alla quale mancava il Commissario straordinario perché non è stato ancora nominato, la proposta di Annie Rewind è stata giudicata improcedibile, avendo incassato il parere negativo di tutti gli enti seduti al tavolo, in particolare sia dal Consiglio Comunale di Crotone che dal Consiglio Provinciale. I motivi sono facilmente intuibili. Una si fatta soluzione, anziché risolvere il problema dell'inquinamento a Crotone, che già ha dato troppo dal punto di vista ambientale, rischierebbe di aggravare ulteriormente i rischi per la popolazione senza alcun vantaggio per il territorio, la cui provincia è già all'ultimo posto delle classifiche nazionali per la qualità della vita per pil pro capite e con un tasso di disoccupazione giovanile che supera il 50%. Infatti, preme ricordare che la città di Crotone ospita nel suo territorio l'unica discarica privata della Calabria, la Columbra, che accoglie rifiuti speciali pericolosi e non, discarica che sarebbe già satura e sebbene già satura ha ricevuto ulteriori 120.000 tonnellate di scarti di lavorazione dei rifiuti solidi urbani provenienti da tutta la Regione, autorizzati dalla Regione Calabria, ai quali si aggiungono i rifiuti speciali pericolosi che pervengono in modo continuativo da tutto il Paese, destinati ad un'altra discarica adiacente a quella precedente. Quindi la preoccupazione si sposta proprio su questa discarica, dal momento che nel corso della conferenza dei servizi Annie Rewind ha ribadito che le alternative alla tombatura sono poche, che non vi sarebbero in Italia altri siti disposti ad accogliere le scorie, nonostante l'impegno precedentemente assunto, quando invece proprio a Crotone esiste la suddetta discarica privata che potrebbe ospitarli. Una siffatta soluzione, sottosegretario, violerebbe ancora una volta gli impegni sottoscritti con il piano di bonifica di trasferire i rifiuti fuori Regione. Il ritardo accumulato è ormai inescusabile ed è necessario procedere immediatamente alla nomina del nuovo commissario stedinario perché vigili sull'avvio delle operazioni di bonifica con il trasferimento, quindi con rispetto del piano del progetto di bonifica, il trasferimento di rifiuti fuori Regione. È assolutamente impensabile per tutte le ragioni che sono state esposte che questi rifiuti speciali, pericolosi, anche radioattivi, vengano definitivamente tombati nel sito industriale, che al contrario deve essere bonificato e restituito alla città di Crotone, trattandosi di un'area di circa 130 ettari fronte mare e contigua al centro abitato, oppure che gli stessi vengano trasferiti a distanza di pochi chilometri nella discarica privata. È impensabile. Pertanto è necessario un intervento urgente del Governo affinché provvede all'immediata nomina del commissario straordinario individuato in una figura di alto profilo, competente sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista organizzativo, anche al fine di impedire l'infiltrazione della criminalità organizzata, sicuramente interessata alla gestione delle ingenti somme che verranno spese nelle operazioni di bonifica, ma non chiediamo soltanto questo. Chiediamo anche quale iniziative intende adottare per salvaguardare il territorio della provincia di Crotone, che ha già pagato un prezzo altissimo dal punto di vista ambientale rispetto ad ulteriori iniziative che contrastano con la vocazione turistica e il pregio paesaggistico del territorio e che rischiano di aggravare una situazione ambientale già ampiamente compromessa. Grazie.